Non scappo, vorrei vedere anche questa. No, 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 non scappo. Capisco il vostro gioco. Voi volete che io scappi, invece io non scappo. Come, osi di pensare? Osare di pensare, eh? Sicché, quando vi fa comodo, mi acchiappate. Quando invece vi do fastidio, mi lasciate per andare per i fatti vostri. Troppo comodo. Il vostro dovere ora è di portarmi al commissariato. Il mio è di seguirvi. Tu sei giovane, forse hai una madre che ti aspetta a casa. Capisco che questo è il tuo primo fallo e non lo farai più. Torinando.